Saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. Sono Cosimo Mascolo, sono un compositore e arrangiatore di brani musicali. La musica è una mia passione, un hobby non è la mia professione. Oltre alla composizione ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live con band e piano bar. Saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. Saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. Saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone.